Rapine e commercianti scatta il piano sicurezza. La Camera di Commercio, siglando un protocollo d'intesa con la Prefettura, ha destinato 150.000 euro alla tutela degli esercenti più esposti alle rapine. Saranno dunque beneficiari del fondo le piccole e medie imprese commerciali che subiscono il maggior numero di reati predatori, cioè farmacie, oreficerie, gioiellerie, tabaccherie e distributori di benzina. Il fondo verrà distribuito tra i vincitori del bando emesso dalla Camera di Commercio di Napoli e verrà impiegato per l'acquisto e l'installazione di sistemi telematici antirapina e di sistemi per il pagamento elettronico che ridurranno l'aggiocenza di denaro liquido all'interno degli esercizi commerciali. Le installazioni verranno effettuate tutte entro novembre, in questo modo i commercianti saranno più tutelati durante le feste natalizie e nei periodi con maggior incidenza di rapine. Nasce insomma un fronte comune tra le forze dell'ordine e società civile e la Prefettura ha annunciato inoltre la presenza in strada di un maggior numero di agenti. Grazie a tutti.